Benvenuti al California Center for Reproductive Medicine, uno dei centri leader in California per la fertilità. Siamo situati a San Diego sulla costa panoramica della California del Sud. Il nostro laboratorio di embriologia ed il centro chirurgico è stato fondato ed è diretto dalla dottoressa Lori Arnold. La dottoressa Lori Arnold è uno dei pochi medici donna con uno staff del tutto femminile. Il nostro team è in grado di fornire compassione, competenza e cure individualizzate. Copriamo tutti gli aspetti del trattamento di fecondazione. Abbiamo esperienza nel lavoro con pazienti locali ed internazionali. Il California Center for Reproductive Medicine ha una percentuale di successo nella fecondazione in vitro superiore alla media nazionale grazie all'esperienza medica, a un laboratorio competente e la cura personale delle esigenze di ciascun paziente. Vi invitiamo a contattarci telefonicamente o attraverso il nostro sito cacrem.com per maggiori informazioni sui nostri servizi.